Luca Carboni è il quarto di cinque figli, tre maschi e due femmine. Suo padre lavora in un'azienda di carrozzine e giocattoli per bambini, mentre sua madre, Franca, è casalinga. Fin da piccolo Carboni sviluppa una grande passione per la musica. A soli sei anni impara a suonare il pianoforte e ascolta cantautori italiani come Lucio Battisti e Francesco De Gregori. Dopo le scuole medie prova a studiare ragioneria e agraria, ma capisce presto che non sono adatti a lui. Ha lavorato a lungo nell'azienda di carrozzine e giocattoli di famiglia e ha anche fatto il commesso in un elegante negozio di abbigliamento a Bologna, dove un giorno, durante una manifestazione studentesca, fu bersagliato dalle uova. Nel 1976, a 14 anni, fonda i Teobaldi Rock con Andrea Bellodi, Giovanni Cannamela, Antonello Giorgi, Nicola Lenzi e Marco Toschi, ricoprendo il ruolo di chitarrista e compositore. Le prime prove del gruppo avvengono nella parrocchia. I Teobaldi Rock si esibiscono in numerosi concerti fino al 1980, partecipando al fermento culturale di Bologna durante gli anni del punk e della New Wave. Nel 1980, il gruppo partecipa alla manifestazione Bologna Rock 80 e, nel 1981, pubblica il loro unico 45 giri, che include i brani LN e Odore d'inverno. Il singolo, edito dalla Bazar di Reggio Emilia, è distribuito a livello locale, ma il gruppo si scioglie subito dopo. La qualità sonora del disco non è ottimale e oggi è diventato raro. Carboni non rinuncia alla sua passione per la musica e cerca nuove opportunità. Gli Stadio, leggendo un suo testo lasciato all'Osteria da Vito, un ritrovo di cantautori e musicisti, gli propongono di scrivere un pezzo per il loro primo album. Nel 1982, Carboni scrive Navigando contro vento, che viene incluso nell'album degli Stadio. Grazie all'incontro con Gaetano Curreri, Carboni ha l'opportunità di realizzare il suo primo album con la RCA italiana. Registrato nel 1983 e pubblicato il 27 gennaio 1984, intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, vanta la coproduzione di Curreri e la collaborazione di Ron e Lucio Dalla. L'album vende 30.000 copie e il singolo Ci stiamo sbagliando supera le 50.000 copie, entrando in classifica nei primi 20 posti per alcune settimane e vincendo il premio Disco Verde al Festival Bar 1984. Carboni riesce a conquistare soprattutto i più giovani, che trovano nella sua musica una riflessione delle loro ansie e dei loro desideri. Da agosto a dicembre 1984 è impegnato nella tournée Luca Carboni Tour 1984. Il 3 settembre 1985 esce Forever, il secondo album di Luca Carboni. Questo disco, che raggiunge le 70.000 copie vendute, segna un miglioramento rispetto al precedente, entrando nella top dent delle classifiche per alcune settimane. Forever si presenta come una naturale evoluzione del lavoro precedente, mantenendo lo stesso stile ma con un punto di vista più maturo, sia nei testi, che ora trattano anche temi sociali con sottile ironia, sia nella musica, con arrangiamenti più raffinati. Da luglio a settembre 1985, Carboni è impegnato nella tournée Luca Carboni Tour 1985. Nello stesso anno si prende una pausa per cercare nuovi stimoli e idee, dedicandosi anche alla pittura. Da gennaio a ottobre 1986 è di nuovo in tournée con Luca Carboni Tour 1986. Il risultato di un'elaborazione più approfondita e attenta è l'album Luca Carboni, pubblicato il 26 settembre 1987. Il primo singolo estratto, Silvia lo sai, riesce a raccontare con delicatezza il dramma di un amore adolescenziale travolto dalla droga e diventa un inno generazionale. Anche l'altro singolo, Farfallina, una canzone tenera e struggente sul desiderio di amare, contribuisce al successo dell'album. Questi brani aiutano l'album a raggiungere le 700.000 copie vendute e a conquistare le classifiche italiane, dove l'album arriva al primo posto e resta in classifica per oltre un anno. Il disco esplora il romanticismo, combinato con ironia e ritratti che spaziano tra Bologna e i paesaggi del mare Adriatico. Da luglio 1987 a settembre 1988, Carboni è impegnato nella tournée Luca Carboni Tour 1987-1988. Nel 1988 realizza Le tue ali Bologna, un inno per il Bologna Calcio, insieme ad Andrea Mingardi, Lucio Dalla e Gianni Morandi. Nel 1989 viene pubblicata anche una versione spagnola dell'album Luca Carboni. Nonostante il successo, il suo carattere riservato, lo spinge a mantenere un basso profilo mediatico, limitando la sua esposizione pubblica. La critica inizialmente lo accusa di mancanza di impegno ideologico, relegandolo a Icona per adolescenti, ma successivamente riconoscerà il valore della sua introspezione e delle sue melodie accattivanti. La volontà di Carboni di allontanarsi dalla fama si concretizza con Persone silenziose. Pubblicato il 24 novembre 1989, questo album più intimo e riflessivo rispetto ai precedenti è caratterizzato da sonorità più acustiche e da una profonda malinconia. In questo lavoro Carboni celebra gli umili, coloro che non occupano i titoli dei giornali, come simbolo di valori che sembrano persi nella società. Nonostante la scelta di limitare le sue apparizioni mediatiche, il disco raggiunge le 500.000 copie vendute, sostenuto dal singolo Primavera, che evoca emozioni del passato nel presente con continui flashback. Nel 1990 Carboni si esibisce nella tournée Persone silenziose Tour 1990 da marzo a settembre e pubblica l'Avvenire per il mercato francese, una raccolta dei suoi primi tre album. Nel 1991 appare brevemente nel videoclip del brano Festival di Gabicce Mare, incluso nel secondo album di Biagio Antonacci, Adagio. Dopo una pausa di due anni, Carboni ritorna con un altro album di successo. Carboni, uscito il 10 gennaio 1992. Il singolo Ci vuole un fisico bestiale, con il suo ritmo rock e ironico, anticipa l'uscita dell'album. Mare Mare, una canzone malinconica, diventa l'inno dell'estate e gli consente di vincere il premio singoli al Festival Bar 1992 e il premio come miglior artista dell'anno a Vota la Voce. Entrambi i singoli sono realizzati in versioni alternative per discoteche e Mare Mare ottiene anche un buon successo nelle discoteche greche, grazie a una versione tradotta in greco in collaborazione con Stefano Scorcolis. L'album supera il milione di copie vendute e si guadagna un triplo disco di platino. Altri singoli di successo includono La mia città, una critica ironica al modello di sviluppo, e Le storie d'amore, una tenera canzone d'amore scritta con il suo storico chitarrista, Mauro Patelli. Le storie d'amore viene anche reinterpretata con la partecipazione di Larry Johnson e inclusa nella compilation Original Super Hits pubblicata dalla BMG tra il 1993 e il 1994. In Alzando gli occhi al cielo, Carboni riflette su come i capi della mafia e i potenti possano rimanere insensibili di fronte agli attentati mortali a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avvenuti nello stesso anno. Tra marzo e agosto 1992, Luca Carboni è impegnato nella tournée Ci vuole un fisico bestiale. Tour 1992. A novembre e dicembre dello stesso anno intraprende una serie di concerti con Giovanotti, denominata Carboni-Giovanotti, in concerto 1992, che include otto esibizioni e segna l'inizio di una lunga collaborazione tra i due artisti. Questo sodalizio porta alla pubblicazione il 25 ottobre 1993 della raccolta Diario Carboni, che include brani dal vivo, remix e inediti, tra cui tre duetti con Giovanotti, Vedo risorgere il sole, Mix 1992 le storie d'amore, Plus puttane e spose e O è Natale tutti i giorni e un duetto con Ugo Rapezzi, Spider. Inoltre, durante tre date del tour, due a Bologna e una a Salerno, viene registrata una VHS intitolata Diario Carboni, pubblicata il 2 luglio 1993. Nel 1993, Carboni collabora con Mauro Malavasi nella produzione dell'album Arrivano i nostri di Ugo Rapezzi. Sempre nello stesso anno, appare come prete in uno spezzone del videoclip del brano Penso positivo di Giovanotti, tratto dall'album Lorenzo 1994. Inoltre, duetta con Mario Lavezzi, Mango e Laura Valente nel brano Bianche raffiche di vita, incluso nell'album Voci 2 di Mario Lavezzi. Carboni parte poi per una serie di concerti in Italia, Svizzera, Germania e Belgio con i tour Ci vuole un fisico bestiale. Tour 1993 Europa, maggio 1993, Diario Carboni Tour 1993, ottobre-novembre e Diario Carboni Tour 1994 europeo, giugno-luglio 1994. Negli anni 90, Luca Carboni approfondisce la sua ricerca minimalista e il 12 ottobre 1995 pubblica l'album Mondo World Wealth Mond. Il disco, registrato in gran parte in presa diretta, presenta un suono grezzo e immediato, particolarmente evidente nel singolo di lancio inno nazionale che ironizza contro egoismo e razzismo con un arrangiamento essenziale di chitarra, basso, batteria e tromba suonati da Mauro Patelli. Al contrario, brani come Non è risultano più rifiniti e levigati, evidenziando una certa disomogeneità che, sebbene criticata da alcuni, riflette una scelta stilistica deliberata. Il disco è seguito dalla tournée Mondo Tour 1996, una serie di concerti innovativi che si svolgono tra febbraio e novembre 1996. Durante alcuni di questi eventi vengono registrati due brani X-T Blue in duetto virtuale con Alessio Bertallo e Alzando gli occhi al cielo in duetto con Giovanotti inclusi successivamente nell'album Live del 2003. Nello stesso anno viene pubblicata la versione spagnola dell'album intitolata Mundo World Wealth Mondo grazie alla collaborazione con Miguel Bosé e Carboni scrive il testo del brano Happy Family per Biagio Antonacci che appare nell'album Il Mucchio e viene utilizzato come colonna sonora del film tutor della regista cinese Li Hong. Il minimalismo di Carboni raggiunge il suo apice con l'album Carovana pubblicato il 7 maggio 1998 Questo lavoro è interamente realizzato da Carboni stesso utilizzando un elaboratore a casa con l'intento di ottenere un suono leggero e atmosferico ad eccezione del singolo di lancio Le Ragazze Da settembre 1998 a ottobre 1999 Carboni è impegnato nella tournée Carovana Tour 1998-1999 Il 22 ottobre 1999 viene pubblicata la raccolta Il Tempo dell'Amore concepita per celebrare i primi 15 anni di carriera di Luca Carboni e dedicata alla nascita di suo figlio Samuele Questa raccolta include due brani inediti La mia ragazza e Il Tempo dell'Amore Tra febbraio e agosto 2000 Carboni è impegnato nella tournée Europe Live Tour 2000 che lo porta in vari concerti europei Durante questo periodo duetta con Andrea Mingardi nel brano in dialetto bolognese Gig 2000 incluso nell'album Ciao ragazzi Il 26 ottobre 2001 esce l'album Luca il cui primo singolo Mi ami davvero è una dichiarazione d'amore che si contrappone ai malcostumi del tempo Questo brano spinge l'album in cima alle classifiche e conquista la prima posizione dell'airplay radiofonico Nel 2002 vengono pubblicati come singoli anche La nostra storia dedicata alla compagna di Carboni Le parole e stellina dei cantautori Da gennaio a ottobre 2002 Carboni è in tournée con il Luca Tour 2002 Il 7 maggio dello stesso anno è ospite di Giovanotti al concerto del Il Quinto Mondo Tour 2002 al Mediolanum Forum di Assago dove duettano in Mi ami davvero brano che verrà incluso nell'album Live del 2003 Il 6 dicembre 2002 esce il DVD Autoritratto che raccoglie 10 video selezionati dalla carriera di Carboni Nello stesso anno duetta con gli Schiantos nel brano La sonnolenza provoca dipendenza pubblicato nell'album Doppia dose Il 28 ottobre 2003 viene pubblicato Live una raccolta di 29 pezzi selezionati tra i concerti dal 1992 al 2002 che include anche l'inedito Settembre Il 26 febbraio 2004 Luca Carboni pubblica il suo primo libro Autoritratto che raccoglie dipinti raffigurazioni e bozzetti oltre a pensieri testi e racconti personali Da febbraio a settembre dello stesso anno è impegnato nella tournée Autoritratto Live Tour 2004 una serie di concerti in Italia Nell'estate dello stesso anno realizza una nuova edizione della copertina dell'album Buffalo Bill di Francesco De Gregori ceduta all'asta con il ricavato devoluto in beneficenza Il 15 ottobre 2004 è ospite di Biagio Antonacci a Bologna durante il concerto del Convivendo Tour 2004-2005 dove duettano nella canzone Silvia Lo Sai nel 2005 nel 2005 Carboni duetta con Ron nel brano Anima incluso nell'album inallegato al Corriere della Sera ma quando dici Amore che contiene 14 brani di cui 13 duetti con grandi artisti italiani e internazionali l'intero ricavato della vendita dell'album viene devoluto all'Isla Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Il 29 settembre 2006 esce il nuovo album di Inediti Le band si sciolgono anticipato dal singolo Malinconia L'album vede la collaborazione di Pino Daniele che suona la chitarra nel brano La mia isola e di Gaetano Curreri autore delle musiche del brano Lampo di vita Include anche Pensieri al tramonto un duetto con Tiziano Ferro L'album esce in due versioni CD e CD Plus DVD Il DVD contiene una trilogia di video realizzati in cartone animato ispirati al fumetto cortomaltese di Hugo Pratt e riceve il premio Videoclip Italiano 2006 e il premio per il miglior video dell'anno ai Venice Music Awards 2007 per La mia isola Il 21 febbraio 2007 viene pubblicato Segni del tempo una biografia sotto forma di intervista scritta da Carboni e Massimo Cotto che riassume le sue esperienze artistiche e personali Nello stesso mese la canzone Malinconia viene utilizzata come colonna sonora del film Notte prima degli esami Oggi da febbraio da febbraio a ottobre 2007 Carboni è in tournée con il Le Band si sciolgono Tour 2007 il 16 novembre dello stesso anno pubblica la raccolta Una Rosa per te composta da 36 canzoni d'amore tra cui spiccano C'è dentro le scarpe e canzoni alla radio queste ultime tre erano state incise per gli stadio negli anni 80 e mai pubblicate da lui fino ad allora Il 15 febbraio 2008 viene pubblicato l'album Angoli diversi dei neri per caso che include una versione cappella del brano Ci vuole un fisico bestiale in duetto con Luca Carboni Il 3 febbraio 2009 Carboni partecipa come guest star alla serie televisiva di Rai 2 l'ispettore Coliandro nell'episodio Doppia rapina Il 16 febbraio 2009 esce Musiche ribelli un album registrato all'Isola d'Elba negli ultimi mesi del 2008 Questo lavoro contiene cover di brani di cantautori degli anni 70 e 80 tra cui Musica ribelle di Eugenio Finardi Vincenzina e la fabbrica di Enzo Giannacci Raggio di sole di Francesco De Gregori Venderò di Edoardo Bennato Up Patriots to Arms di Franco Battiato Eppure Soffia di Pierangelo Bertoli e La casa di Hilde di Francesco De Gregori Quest'ultimo brano è interpretato in duetto con Riccardo Sinigallia che figura anche come produttore Carboni incide anche Ho visto anche degli zingari felici una famosa canzone di Claudio Lolli del 1976 che anticipa l'uscita dell'album come singolo il 10 ottobre 2008 Da marzo a ottobre 2009 è impegnato nella tournée Musiche ribelli tour 2009 Il 21 aprile 2009 partecipa alla registrazione del brano Domani 21 bozzoccio 4 2009 pubblicato l'8 maggio 2009 un progetto che riunisce i più grandi artisti italiani per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Aquila del 2009 Da aprile a novembre 2010 Carboni è di nuovo in tournée con il Musiche ribelli tour 2010 Il 3 ottobre 2010 partecipa a un concerto gratuito ad Arzignano per la giornata nazionale contro la sclerosi laterale amiotrofica insieme a Lucio Dalla Max Giusti Giussi Ferreri Francesco Grollo Fiorella Mannoia Marco Mengoni Ron e al gruppo Statuto Nel gennaio 2011 Luca Carboni interpreta una breve parte nel brano L'elemento umano di Giovanotti dall'album Ora Il 5 maggio dello stesso anno è ospite al concerto di Giovanotti al Future Show Station di Casalecchio di Reno dove duetta con Cesare Cremonini nel brano Mare mare Tappa del Lorenzo Live ora in tour 2011-2012 a maggio partecipa anche a un video organizzato da Legambiente intitolato Un sì per dire no insieme a numerosi artisti per sostenere il voto contro il nucleare nei referendum abrogativi di giugno il 13 settembre 2011 esce il suo album di inediti senza titolo anticipato dai singoli Fare le valigie e Cazzo che bello l'amore altri singoli estratti sono Riccione Alexander Platz e Per tutto il tempo il 17 settembre Carboni è di nuovo ospite al concerto di Giovanotti all'Arena di Verona dove duetta nei brani Mare mare e La mia moto il 30 settembre partecipa al festival Oscia a Lampedusa eseguendo una versione unplugged dei suoi nuovi singoli e duettando con Claudio Baglioni e Teresa De Sio il senza titolo tour 2011-2012 inizia il 3 dicembre 2011 a Senigallia e si conclude il 6 ottobre 2012 a Santa Flavia dopo 28 date l'11 ottobre 2012 esce l'album di Free Cantoni però quasi che include un duetto con Carboni nel brano omonimo il 30 ottobre viene pubblicato l'album degli Stadio 30 ai nostri anni contenente il brano Bella scritto da Carboni e Fabio Liberatori il 13 novembre 2012 esce l'album Tributo a Giorgio Gaber per Gaber Io ci sono che include il brano live Far finta di essere sani interpretato in duetto con Riccardo Sinigallia questo triplo album presenta brani di Gaber eseguiti da 50 artisti italiani il 4 marzo 2013 Carboni partecipa al concerto di Piazza Maggiore a Bologna dedicato a Lucio Dalla insieme ad artisti come Andrea Bocelli Zucchero Fornaciari e Fiorella Mannoia esibendosi in Cosa sarà e Quale Allegria il 2 maggio 2013 inizia il Luca Carboni Tour 2013 che termina il 14 settembre a Cerreto Laziale dopo 16 date il 6 maggio 2013 viene pubblicato l'album dei Perturbazione Musica X che contiene il brano I Baci Vietati in duetto con Luca Carboni estratto come singolo il 17 ottobre 2014 il 1 ottobre 2013 Luca Carboni pubblica Fisico e Politico un album raccolta per festeggiare i suoi 30 anni di carriera l'album include tre brani inediti e nove grandi successi riproposti in duetto con artisti come Tiziano Ferro Elisa Giovanotti Alice Miguel Bosé Franco Battiato Biagio Antonacci Cesare Cremonini e Samuele Bersani il primo inedito e singolo estratto dall'album il 6 settembre è Fisico e Politico in duetto con Fabri Fibra gli altri inediti sono C'è sempre una canzone scritto da Luciano Ligabue estratto come singolo il 24 gennaio 2013 e Dimentica gli altri singoli dall'album sono Persone Silenziose estratto il 15 novembre 2013 e Ci vuole un fisico bestiale in duetto con Giovanotti estratto il 6 giugno 2014 il 17 dicembre 2013 Carboni riceve la turrita d'argento nella sala rossa Maurizio Cevenini di Palazzo d'Accursio a Bologna in riconoscimento dei suoi 30 anni di carriera il 20 dicembre 2013 inizia la tournée teatrale Fisico e Politico Tour 2013-2014 con una data speciale al Paladozza di Bologna che vede la partecipazione di numerosi ospiti tra cui Alberto Bertoli Alice Andrea Mingardi Biagio Antonacci Elisa Gaetano Curreri Roberto Drovandi Marco Tamburini Gianni Morandi Giovanotti Riccardo Sinigallia Ron Samuele Bersani Saturnino e Tiziano Ferro Nel gennaio 2014 Luca Carboni riceve due nomination ai Rock All Awards 2013 nelle categorie Miglior Singolo Italiano e Miglior Video Italiano per Fisico & Politico con Fabri Fibra A febbraio ottiene quattro nomination ai World Music Awards 2014 nelle categorie Miglior Album con Fisico & Politico Miglior Artista Maschile Miglior Intrattenitore e Miglior Interprete Live Il 27 marzo pubblica Live Session il suo primo EP in download digitale esclusivo su Amazon contenente sei brani in versione Live Unplugged registrati il 20 marzo presso il punto vendita Amazon di Milano il 3 giugno riceve il Music Award al Foro Italico di Roma nella categoria CD Oro per Fisico & Politico e si esibisce in C'è sempre una canzone a giugno scrive il brano Amarti da qui per Michele Bravi vincitore della settima edizione di Ex Factor pubblicato sull'album A Passi Piccoli il 4 ottobre 2014 partecipa a un concerto organizzato dai nomadi in Piazza Duomo a Milano per festeggiare i 30 anni della fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi esibendosi in Farfallina e Mare Mare e duettando con i nomadi in Dio è morto l'esibizione viene pubblicata il 2 dicembre sul DVD Exodus Nomadi Live tremenda voglia di musica il 27 ottobre 2014 pubblica l'album tributo a Rino Gaetano Solo con io che contiene il brano E io ci sto estratto come primo singolo il 24 ottobre 2014 l'11 novembre esce l'album di Alice Weekend che include il brano Da lontano in duetto con Luca Carboni e Paolo Fresu estratto come secondo singolo il 9 gennaio 2015 nel 2015 Luca Carboni contribuisce all'album di Marco Mengoni Parole in circolo scrivendo il brano Se io fossi te inoltre pubblica la versione in lingua inglese del brano For You I Will disponibile solo in digitale su Team Music e la versione in lingua spagnola Allí donde estés per l'album Liberando Palabras Tra maggio e settembre 2015 è impegnato nella tournée Luca Carboni Tour estivo 2015 che tocca 16 piazze italiane Il 2 ottobre 2015 esce il nuovo album di inediti pop-up anticipato il 21 agosto dallo singolo Luca lo stesso Gli altri singoli estratti sono Bologna è una regola 1 gennaio 2016 Happy 13 maggio 2016 e Milano 7 ottobre 2016 Il 28 novembre 2015 Carboni è ospite al Mediolanum Forum di Assago al concerto di Giovanotti duettando in Luca lo stesso e ripete l'esibizione il 21 dicembre all'Unipol Arena di Bologna aggiungendo anche O è Natale tutti i giorni Nel 2016 è impegnato nella tournée Pop-up-up Tour 2016 con 42 tappe Il 22 aprile esce l'album di Jake La Furia Fuori da Qui che include il brano omonimo in duetto con Carboni Il 6 maggio l'album di Gianluca Grignani Una strada in mezzo al cielo contiene Falco a metà in duetto con Carboni Il 3 giugno è pubblicato l'album live di Samuele Bersani La Fortuna Che Abbiamo Live che include una cover di Lucio Dalla eseguita in duetto con Carboni Il 24 giugno l'album di esordio del DJ Squalo Jacomarco e Basta contiene una cover di Carboni Il mio cuore fa cioc in duetto con lo stesso Carboni Il 6 giugno riceve due premi Wind Music Award per Pop-up Album Oro e Singolo Platino per Luca lo stesso Il 14 luglio pubblica in download digitale un album di remix di Happy Il 28 ottobre l'album di esordio solista del cantante Busta dei Subsonica La stanza intelligente contiene il brano Come la neve in duetto con Carboni estratto come singolo il 25 novembre Il 17 dicembre è ospite al Mainstream Tour 2016 di Calcutta duettando nel brano Del Verde Nel 2017 Carboni è ospite in diversi tour Il 9 e l'11 maggio si esibisce con i te giornalisti al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago duettando nei brani Proteggi questo tuo ragazzo e Luca lo stesso Il 22 maggio è ospite allo Scriverò il tuo nome Live Palasport Tour 2017 di Francesco Renga all'Unipol Arena di Bologna duettando in Luca lo stesso Il 13 settembre partecipa al Together Here We Are Tour 2017 di Elisa all'Arena di Verona duettando in Vieni a vivere con me Vieni a vivere con me Nel 2018 Luca Carboni partecipa a vari progetti e iniziative musicali e benefiche Il 9 febbraio viene pubblicato l'album Primati del gruppo Lo Stato Sociale che include il brano Facile in duetto con Carboni uscito come singolo il 25 maggio L'8 giugno Carboni pubblica il suo nuovo album Sputnik composto da nove tracce inedite anticipato dal singolo Una grande festa il 27 aprile Gli altri singoli sono Io non voglio e Ogni cosa che tu guardi Il 2 giugno Carboni partecipa all'evento Lucio al Teatro Romano di Verona un concerto omaggio a Lucio Dalla duettando con Ron in Quale Allegria Il concerto presentato da Michelle Hunziker viene trasmesso il 31 agosto su Canale 5 Il duetto con Ron viene incluso nell'album Lucio pubblicato il 26 aprile 2019 Il 28 settembre 2018 esce l'album Fino a qui dei Tiro Mancino contenente il brano Imparare dal vento in duetto con Carboni Nello stesso mese Carboni aderisce alla campagna Il battito del cuore di Bayer realizzando un logo e reinterpretando il brano Il mio cuore fa cioc del 1993 con pazienti cardiopatici dell'associazione Alice Italia Onlus Il brano viene diffuso il 29 settembre attraverso un videoclip sui social A novembre riceve due nomination ai Rock All Awards 2018 nelle categorie Miglior Album Italiano con Sputnik e Miglior Artista Live Italiano Il 9 novembre viene pubblicato l'album di Marco Armani con le mie parole che include il brano Essere duri in duetto con Carboni Da ottobre 2018 a ottobre 2019 è impegnato nella tournée Sputnik Tour 2018-2019 con 55 tappe Il 22 febbraio 2019 esce il singolo benefico C'è da fare realizzato da 25 artisti italiani tra cui Carboni per le vittime del crollo del viadotto Polcevera A maggio Carboni reinterpreta prima di partire in duetto con Giorgio Poi disponibile in download digitale e estratta come quarto singolo da Sputnik Il 10 luglio è ospite di Giovanotti al Giova Beach Party 2019 a Rimini duettando in Mare Mare Ci vuole un fisico bestiale e 43 1943 di Lucio Dalla Il 7 settembre partecipa al concerto dei Te Giornalisti al Circo Massimo di Roma duettando in Luca lo stesso Ad ottobre fa un cameo nel film Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi e la canzone Malinconia è utilizzata come colonna sonora Nello stesso mese aderisce nuovamente alla campagna Il Battito del Cuore reinterpretando Ci vuole un fisico bestiale con cardiologi musicisti Il brano viene diffuso il 21 ottobre sui social A novembre espone una selezione di 41 opere realizzate dal 1998 al 2019 nella mostra a Bologna è un'immagine a Palazzo Arnolfini durante Lucca Comics and Games Il 15 novembre esce l'album Note di Viaggio Capitolo 1 Venite Avanti dedicato alle canzoni di Francesco Guccini con la collaborazione di 13 artisti italiani tra cui Carboni Carboni interpreta in duetto con Samuele Bersani Canzone delle Osterie di Fuoriporta Il 7 febbraio 2020 è uscito l'album di Marco Masini Masini Plus Uno 30th Anniversary che include il brano Vaffanculo in duetto con Luca Carboni Il 3 aprile è stato pubblicato il singolo Canzone sbagliata del rapper Dante con la partecipazione di Shade e Luca Carboni L'8 maggio 2020 è stato reso disponibile in download digitale il singolo Ma il cielo è sempre più blu Italian Stars 4 Life una cover del brano di Rino Gaetano del 1975 a cui ha partecipato Luca Carboni insieme a 54 cantanti e musicisti italiani Questa canzone è stata realizzata per supportare la Croce Rossa italiana durante l'emergenza Covid-19 Il 10 luglio è stato pubblicato in download digitale il singolo La canzone dell'estate scritto durante la quarantena Il 30 settembre 2021 Carboni è stato ospite all'Arena di Verona per il concerto di Marco Masini celebrando i 30 anni di carriera e duettando nel brano Vaffanculo Il 1 ottobre ha ricevuto il premio alla carriera dal meeting delle etichette indipendenti May a Faenza Il 5 novembre è uscito l'album benefico Puntofermo Cieffo Charity Tribute in CD che raccoglie alcune cover dei brani di musica sacra di Claudio Cieffo tra cui Io non sono degno interpretata da Luca Carboni con i proventi destinati ad Avzi Kenya Nel gennaio 2022 Carboni ha annunciato di essere al lavoro sul tredicesimo album in studio con Marta Venturini previsto inizialmente per i primi mesi del 2023 Vita privata Dal 1989 Luca Carboni convive con Marina Vanni con cui ha un figlio di nome Samuele è tifoso del Bologna e della Fortitudo e si dichiara cattolico ti dichiara